Ciao amici di Contso Tennis, buongiorno, bentrovati. Ciao Fede. Ciao Fede, come stai? Bene, bene. Tu? Bene, abbastanza bene. Allora, si parte col primo mille stagionale, che è un appuntamento che a me è particolarmente grato. A me piace tantissimo, Enyan Wells. A te? No, dimmi tu perché ti piace tantissimo. Boh, l'ho sempre ritenuto il torneo più importante tra i non-slam. e secondo me questa roba è avvertita anche dai giocatori. Cioè, lo giocano, non dico come fosse uno slam, ma quasi. Poi se lo chiamano Tennis Paradise, io non sono mai stato purtroppo. Un motivo ci sarà. Beh, diciamo che non mancano i soldi, non mancano gli spazi. Esatto. E quindi la struttura adesso è veramente bella, con l'ultimo macchiaggio che hanno fatto. I servizi per i giocatori sono di primo livello. Se il torneo è molto bello, è l'orario sfortunato che me lo rende un pochino più indigesto, francamente. Per me il torneo... È 9 ore di fuso rispetto a noi. 9 ore di differenza. Tante. Sì. A me invece il torneo proprio che riconcilia col mondo è Monte Carlo. Però quella è un'affezione particolare che anche io ho e condivido, ovviamente, perché è il torneo dove sono stato maggiormente. Sì, sì, ma... Però Fede è un po' particolare. È abbastanza meno importante di Indian Wells. No, ma io ne facevo proprio anche un fatto televisivo, nel senso, adesso lasciamo stare che c'è ovviamente la suggestione del fatto che poi uno sa di andarci, quindi se lo pregusta magari in tv e poi ci va, oppure come succede ormai da parecchi anni, ci si va e basta. Però anche quando lo guardavo soltanto in televisione, e me lo ricordo perché erano gli anni 90 ed Eurosport trasmetteva sul satellite, e all'inizio non c'era ancora il commento in italiano addirittura. E quindi io me lo guardavo, appunto, col commento in tedesco, in inglese, però cominciavo a vedere il sole, i giocatori in maglietta, queste inquadrature dall'alto dietro la rocca di Rockbrun, verso il mare, il Monte Carlo Bay, e poi quando... Un po' il singolo della primavera, no? Sì. Sì, sappiamo che quando arriva Monte Carlo sta arrivando la primavera da noi. Sì, e poi esatto, poi ti guardavi intorno a casa tua e vedevi gli alberi in fiore, sentivi gli uccelli, ah finalmente ci togliamo il giaccone e si torna a vivere. Comunque stiamo già divagando. Allora, prima di parlare del tabellone che è stato sorteggiato nella notte, volevamo dirvi un paio di cose, di accorgimenti, di una sorta di linea strategica che vorremmo mettere in atto su Gonzo Tennis, per rendere, diciamo, il canale... Allora, abbiamo fatto dei passi avanti enormi nel nostro primo anno di vita, Fede, e adesso dobbiamo un po', abbiamo la necessità di ordinare le cose per puntare sempre più in alto. Quindi, vi enuncio cosa faremo, cosa tenteremo quantomeno di fare. Terremo una puntata fissa, che è la classica che facciamo io e Fede settimanale, tendenzialmente la faremo di lunedì. Cercheremo di fare sempre di lunedì, perché è il giorno più adatto, un po' per raccontare quello che è successo la settimana precedente. A questo, ovviamente, aggiungeremo delle puntate che chiameremo Gonzo Flash, per la durata, che faremo quando ci sono degli avvenimenti particolari. Mi vengono in mente quando ci sono i torni grandi, come in Jan Wells, come gli Slam, e tutto quello che vedremo. Quando succede qualcosa che cattura la nostra attenzione, noi ci chiamiamo e facciamo un Gonzo Flash, un attacco rapido. Gli ospiti, che sono stati uno dei nostri cavalli di battaglia nel nostro primo anno di vita, no, Fede? Esatto. Adesso abbiamo un po' rallentato, ma vorremmo riprendere il filo del discorso con gli ospiti e portarne almeno uno al mese, facendo una puntata che però esula un po' dalla mera attualità e una roba un po' più particolare. E infine, Gonzo Live. Cioè, le live che abbiamo fatto anche durante gli Australian Open con voi hanno avuto un successo incredibile. È un prodotto un po' più particolare perché è molto più lungo, molto più dispendioso di energia da parte nostra, in particolar modo da parte mia che leggo moltissime domande. No, vuoi diciamola tutta che qui il Mariani è un po' un settario, no? Quindi lui questa cosa, lui fa fatica davanti alla folla, si ridisce. Quindi dovete aiutarlo un po' a smollarsi. No, comunque è anche uno sforzo importante per noi. Però lo facciamo volentieri, cercheremo di farlo quantomeno una volta ogni due settimane. Poi ovviamente tutto il nostro calendario dipende dal calendario di quelli che giocano, che è la parte più importante. E quindi a loro ci adeguiamo. Comunque queste sono le novità. Adesso partiamo, Fede, col tabellone che è stato sorteggiato nella notte. Ci sono sei italiani per ora nel tabellone principale e cinque italiane nel tabellone femminile, ovviamente. Ovviamente agli italiani possono aggiungersi Vavassori e Nardi. Dei sei italiani per ora in tabellone. C'è la wildcard assegnata a Fabio Fognini abbastanza sorpresa. Eh sì, parecchia sorpresa. Ma probabilmente ne sai più tu di me. No, in realtà no. So che sono stati sorpresi pure i diretti interessati di questa wildcard. È stata chiesta, è stata assegnata. A me fa molto piacere, ovviamente. Fa ancora più piacere a Fognini che ha pescato Zapata, Miraias. Insomma, in un mille succemento... Che tra l'altro diventa quel simbolo, diciamo, della classe operaia del tennis, no? Da quella famosa cena di Bublik. Sì, esatto. Diciamo, poteva andare molto peggio. Tu non ricordi, immagino, l'unico precedente tra Zapata e Fognini. E io lo ricordo. Io invece potrei ricordarmelo, perché se non sbaglio, è quella volta in cui Fognini venne squalificato a Barcellona? Bravissimo. Io ricordo quella partita come fosse ieri. Zapata andò 6-0, 3-0, giocando in maniera incredibile. Prendeva solo righe ed era un buon Fognini, eh? Fognini rimontò da 3-0 sotto, 4-3 il servizio, perse il servizio e poi ci fu un alterco con un giudice di linea e venne squalificato. Sì, perché poi questa storia, se non sbaglio, è stata tirata fuori proprio in questi giorni come raffronto a quello che è successo a Rublev, no? Ed era qua che volevo trascinarti. Ah, ecco, grazie. Allora, parliamo brevemente, perché c'è sfuggita questa roba di Rublev. Ti dico subito, secondo te, allora, la notizia intanto è che il ricorso è stato accolto, il ricorso di Rublev, e quindi ovviamente il torneo ormai è andato, però gli sono stati restituiti soldi e soprattutto punti. Sì. Giusto o sbagliato a squalificarlo? Cioè, né giusto né sbagliato stando al regolamento, nel senso... Allora... Eh, cavolo, è veramente difficile darti una risposta a giusto o sbagliato. Io poi sono sempre allergico a questo tipo di buttare giù della torre, che questo tipo quiz, no? Chi ti salvi? Allora, intanto facciamo un po' di cronaca. Su una palla, che secondo me era nettamente fuori, su un punto molto importante, perché era palla del 6-5 al terzo per Bublik, poi Rublev, la palla non è stata chiamata, la palla di Bublik, Rublev ha continuato a giocare, ha perso il punto, 6-5, Rublev va verso il giudice di linea e... Un'immagine molto brutta perché urla un palmo dal viso del giudice di linea e poi va a sedersi. Arriva un altro giudice di linea che parla col giudice di sedia e gli riferisce cosa avrebbe detto in lingua russa, Rublev, e il giudice di linea chiama il supervisor che alla fine squalifica Rublev. Allora, io ho visto il video dell'altra angolazione, Fede, e c'è un video, c'è il video dello sfogo di Rublev, in cui non parla in russo ma parla in inglese e non dice nulla di offensivo, lo dice ovviamente in maniera veemente, ma non dice nulla di offensivo, dice come è possibile che non è... è fuori così come è possibile come è possibile. Si è fuori, esatto, come, come, e mentre dice come, si avvicina sempre di più al viso del giudice di linea. Allora, un paio di postille al tuo racconto preciso. Lui aveva finito i challenge, quindi non poteva fermare il gioco e chiedere la verifica perché non ne aveva più. Non so se sia vero, ma un telecronista sul posto ha detto di aver parlato con quelli di Hawkeye che gli hanno detto che la palla di Bubblica era buona e non era fuori. Però io non lo so se sia vero. A me sembra nettamente fuori, però... Anche bene, però sai, la prospettiva a volte ti frega. Terza cosa, ci si è concentrati molto su quello che ha detto in inglese Rubio al giudice di linea, che è molto chiaro, tra l'altro, mi sembra, e non parla in russo. Quello che credo di aver capito io, anche se non ho trovato né conferme né smentite a questa mia ipotesi, è che le due parole che lui avrebbe dette, cioè in russo fottuto idiota al giudice di linea, le avrebbe dette non gridandogliene in faccia, perché quello che grida in faccia al giudice di linea si vede e si sente, ma tornando indietro e sarebbe stato captato questo insulto da un altro giudice di linea, Kazako, di lingua madre russa, che quindi si è alzato e è andato dal giudice di sedia e ha detto guarda che lui ha dato del fottuto idiota al collega. Quindi è entrato il giudice di supervisor, chiamato dal giudice di sedia, si è fatto ripetere l'accaduto e lo ha squalificato. Ora, il giudice di linea, anche se non è coinvolto personalmente con qualcosa del genere, non è che faccia la spia, è tenuto a fare quello che ha fatto, nel senso che è un ufficiale di gara, cioè tu non puoi non farlo finché non cambiano le regole. Quindi se tu ti accorgi di un qualcosa che viola il regolamento da parte dell'atleta, devi riferirlo al giudice di sedia, non puoi, devi. Se non lo fai, fai un'omissione. Se viene fuori questa cosa, rischi di non fare più quel mestiere lì. Quindi anche chi ha detto, ma perché non si è fatto gli affari suoi. È fatto benissimo a riguardarlo perché questa è una cosa molto importante, perché uno vede la scena, sembra un po' una scena infantile, no? Fede, di questo giudice di linea che si arrampica sul seggiolone e spiffera quello che ha visto. Però è fatto benissimo a ricordarlo, è obbligato a farlo. Beh, ti ricordi la giudicessa di linea con Serena Williams agli US Open? Come no? Va a riferire, torna indietro e poi di nuovo. Sembrava una barzelletta, una gag, invece era quello che doveva fare. Io ricordavo anche benissimo il precedente di Zvereva Montpellier con Manuel Messina, il giudice di sedia di San Marino, che ha detto esattamente in inglese le stesse parole attribuite a Rublio, cioè fucking moron, fottuto idiota. Warning, si è preso. Gli ha detto in faccia, l'ha sentito tutti e non l'ha squalificato. Allora, secondo me più ancora, noi dobbiamo dar fede a quello che ha detto il giudice di linea perché altrimenti salta tutto il discorso. Certo. Nel senso che se tu dici, no ma non è vero, ok, allora nessuno potrà mai essere sanzionato. Perché se un ufficiale di gara dice, hai detto questo, e il diretto interessato risponde, no, non è vero, fine. Però qualche giorno fa, sul mio podcast ho fatto questo esempio. Se ferma, non so, la polizia stradale e dice, lei è passato con il rosso, oppure lei non ha dato la precedenza, e tu potresti dire, non è vero, ok, la mia opinione è contro la tua, uno pari, ciao, me ne vado a casa. No, non funziona così. C'è un privilegio dato a chi è un pubblico ufficiale perché altrimenti le cose non si risolverebbero mai. Ovviamente uno presuppone e spera nella buona fede, perché c'è anche poi la mala fede nell'uomo. Oppure, in buona fede, una mala comprensione. Io, appunto, la mia ipotesi è che lui abbia sentito questa parolaccia, questo insulto detto da Rubioff mentre se ne tornava verso la panchina. Sproporzionata la squalifica diretta? Secondo me no, perché se metti insieme il fatto che lui sia andato a tanto così, cioè se tu violi questa distanza naturale che c'è tra le persone quando parlano, e tutti noi la conosciamo, anche se per fortuna magari molti di noi non abbiamo mai fatto risse o avuto discussioni accese, ma se una persona ti viene più vicino di una distanza che tu senti come normale e ti senti violato nel tuo spazio e ti senti intimidito, io mi sarei spaventato se Rubioff mi fosse venuta tanto così a urlarmi in faccia anche solo. Come hai fatto a non vederla? Sì, diciamo l'immagine è stata brutta, è stata molto più brutta l'immagine di quello che in realtà poi ha detto. Quindi è da condannare quello. Se invece poi tornando indietro gli ha dato pure il nome che pare gli abbia dato, allora la squalifica ci può stare. Non ho ben capito l'argomento che è stato sostenuto dall'ottimo Fabio della Vida su Tennis Italiano, che è un manager di un'esperienza lunghissima e tra l'altro un grande conoscitore del tennis, ma parliamo del cielo, si possono avere opinioni anche indivisibili. Cioè lui dice che in sostanza quella squalifica è stata esagerata perché tu devi salvaguardare anzitutto il fatto che ci sia del pubblico che ha pagato un biglietto e che quindi ha diritto a vedere uno spettacolo. Ora, a parte il fatto che stavano 5 pari al terzo, non 1 pari al primo set, cioè quell'argomento lì lo potrei considerare se appunto la partita fosse iniziata da 5 minuti e tu mi squalifichi uno dei due giocatori. Perché lui dice nel calcio semmai fai l'espulsione e la partita continua. Nel tennis se uno dei due viene espulso e la partita è finita. Ok, vero, ma se succede 5 pari al terzo, ok, non hai un finale diciamo naturale, ma la partita non l'hai negata al pubblico. Dopodiché, francamente, però, siamo tutti d'accordo che quella roba lì esiste perché c'è gente che paga, altrimenti sarebbero tutti dilettanti che giocano tra loro e fanno i torneini la domenica. Ma non può diventare il fattore principale di deciso. Cioè, lo regolamento è un regolamento, se tu lo violi e vieni cacciato, fine. Cioè, non poi dirà no perché altrimenti la gente poi si lamenta perché ha pagato il biglietto. No, non può essere, secondo me, un fattore nella decisione di un arbitro. Sì, ovvio, d'accordissimo con te. In definitiva, è stata una decisione severa, è stata una decisione però legittima, semmai è venuto il momento, anzitutto, ma questo succederà già, mi dispiace, ma di togliere i giudici di linea e di sostituirli con la chiamata automatica sempre. Così, buona parte delle premesse di tutti questi casini. Volevo arrivare a questo anche perché ormai è diventata una roba anacronistica, cioè, ci ha messo molto poco tempo a diventarlo perché quando ci si abita a un cambiamento che ti migliora e puoi tornare indietro è quasi impossibile. Cioè, io ho visto il torneo questa settimana e tantissime circostanze. Ricordo la partita di Musetti con Casò, Musetti avrà chiamato quattro okkai di fila vincendoli tutti e quattro ed è diventato non più sostenibile perché appunto abbiamo visto che c'è un sistema migliore. Sì, ma Fede, tu eri giovane, ma magari lo ricorderai anche. La partita che poi ha creato lo scandalo e ha accelerato l'introduzione di Occhio di Falco nel tennis era stato un match agli US Open tra Serena Williams e Jennifer Capriati. Cioè, sembrava scherzi a parte. Cioè, a Serena hanno chiamato delle robe incredibili. Siccome Hawkeye esisteva già, ma in una sua versione beta, diciamo, e soltanto per chi la vedeva da casa, chiamavano buone palle della Capriati fuori di tanto così e fuori palle di Serena, dentro, ma neanche riga, campo, out. Sette, otto le ne sono successe. E lì poi, diciamo, è stato accelerato il processo di introduzione di Occhio di Falco. E come dici giustamente tu, nel momento in cui poi la tecnologia fa il suo ingresso ed elimina l'errore umano, o quantomeno lo limita fortemente, diventa molto meno sopportabile rispetto a prima il tornare indietro. Quindi questo fatalmente succederà. Dopodiché si parlava di una specie di var tennistico, anche con l'audio, che però, ecco, lì a me sembra molto più difficile. Cioè, il fatto di andare a riascoltare una parola detta o non detta in uno stadio, che fa casino, perché io tra l'altro ho fatto fatica a capire quello che si dicevano al giudice, il supervisor e il rublo, perché tanto non erano microfonati e c'era casino intorno. Quindi si faceva abbastanza fatica. E quindi cosa fai? Sospendi la partita, vai ad ascoltare. Secondo me il regolamento andrebbe rivisto e data meno discrezionalità ai giudici di sedia in questo tipo di situazioni. Cioè, tu dici, se sento queste parole, a mio insindacabile giudizio, o se qualcuno mi riferisce che tu hai detto queste parole, sei fuori. Il problema qual è? È che ci sono giocatori che parlano l'occitano e tu conosci la parola cino-occitano a Terranci. Eh no, certo. Allora diventa... Molto internazionale, quindi ti può arrivare... Allora, il russo, diciamo, è abbastanza parlato nel mondo. Il piemontese è antico di mio nonno, un po' meno. Quindi se io ti insulto nella lingua di mio nonno, ti assicuro che io ti sto insultando malissimo, ma tu non capisci niente. E siccome nei momenti di stress è molto facile che venga fuori la lingua in cui tu sei cresciuto, ci sarebbero giocatori decisamente avvantaggiati rispetto ad altri. È vero, è vero. Però, secondo me, come dicevamo prima, non si può più prescindere dal falco automatico. Anche se il brividino di Okai, secondo me, è una parte dello spettacolo che mi mancherà. Però sono molto più i benefici del... Sì, decisamente. Allora, abbiamo un po' divagato. Torniamo in California, torniamo in New Wales. Ok. E torniamo al... Mi levo la felpa perché... Fa caldo. Allora, torniamo al sorteggio. Partiamo dagli Enixiner, che è l'uomo da battere, secondo me. Ho visto le quote dei bookmaker e lo mettono al secondo posto dopo... Ovviamente Djokovic. Però, insomma, più di Alcaraz, che qua difende il titolo. Sì. Allora, Sin resordirà con Kokinakis o Giron? E diciamo, non dovrebbero esserci problemi. Poi avrà... Giron comunque... Vabbè, adesso Kokinakis l'ho sempre battuto, anche se una è stata molto lottata delle partite. Sì, è 3-0 con Kokinakis e 1-0 con Giron. Giron ha giocato bene queste settimane. Ha fatto finale Dallas, ha fatto 6 in Madrid, il Ray Beach. Vabbè, però... È un mille, quindi ci sta un primo turno un po' ostico. Poi ha struffo Cioric. E anche qua non vedo questi problemi. E poi c'è un... Un possibile ottavo di finale, molto interessante, con il tuo amico Shelton. Oppure... Oppure... Mensik. Che dovrebbe affrontare Shelton al secondo turno. E... Sinner Mensik mi gaserebbe molto. Sì, però la vedremo. Io... Cioè, oggi se devo scegliere, vorrei ancora vedere Sinner Shelton. Mi ha ingolosito nei precedenti, quindi... Sì, diciamo è l'unica partita, l'unico che è avversario nel suo... Nella sua porzione di tabellone fine quarti di finale che ha vinto una partita con Sinner, perché il resto... Nessuno ha vinto. Il potenziale quarto è appunto con Rublev, quindi diciamo che ha pescato benissimo Sinner. Dei quattro... Sì, Sissi Pass non lo citi neanche, vedo, eh. E se tu punti tutto sempre su Valangarospide, vero? Attenzione, Sissi Pass qua è a riposo, perché deve vincere Parigi. Quindi qua andiamo un po' in gestione, poi escalation sulla terra. No, scherzi a parte, Fede, ho visto, adesso che me lo scidi, ho visto ad Alcapulco la partita con The Minor, è stata una partita drammatica, da parte di entrambi, eh. Però in particolar modo Sissi Pass, che l'ha persa. Mamma mia. È incredibile come sia regredito addirittura il rovescio. Ma io credo che l'infortunio sia stato a questo punto davvero un paletto che non è più riuscito a superare. Cioè quel colpo che già era un po' problematico lo è diventato ancora di più. E quindi mi spiace, non so davvero come possa risolvere quel problema. Comunque si è fatto bene a ricordare, perché ovviamente nell'ottavo di Rublev ci sono lui e Sissi Pass. Sinner è atterrato nella parte bassa del tabellone, quella di Alcaraz. L'altra testa di serie che è con Alcaraz è Zverev, che potrebbe essere interessante anche se Zverev ha giocato molto male i tornei messicani. Ha perso, mi sembra, con Altmaier, sicuramente, e pure abbastanza infastidito da Altmaier. Sì, ho visto la stretta di mano. Ho rischiato di finire peggio. Mentre nella parte alta, ovviamente, gli accoppiamenti sono Djokovic-Urkac e Medvedev-Rune. Allora, andiamo un attimo a vedere gli altri italiani, gli altri cinque italiani. Fognini l'abbiamo già detto, l'abbiamo già parlato. Sinner ne abbiamo parlato. L'altra testa di serie, oltre a Sinner, è Musetti, che è in crisi nerissima. Ma per motora non vai, quindi dovrebbe vincere. Quindi quella la vince. E poi a Van de Zanskulp o Shapovalov. Eh, dai. E potrebbe vincere. Se il Shapovalov me la guarderei volentieri. Sì, ma non vince più. Secondo te perché? Non vince più. Aspetta, ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta, Fede. Non vince più. Sta passando un periodo di grave difficoltà. Ma non può essere questa la fine di Musetti. Certo, fine no, assolutamente. È giovanissimo. No, ma la fine nel senso, cioè, ah, non vincerà più, diventerà un teone. No, 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 no. Non è così. Vabbè, dovrebbe partire favorito. Sia con l'uno sia con l'altro, secondo me. Perché Shapovalov lo vedo ancora non. Shapovalov, per esempio, cioè Shapovalov, che l'abbiamo perso. Sì, vabbè, lui. Ma anche lì qualche residuo a speranza di rivederlo almeno un anno a buoni livelli, c'è da Shapovalov. Era il nostro amico Cazzaniga che era molto innamorato di Shapovalov e ne è rimasto molto deluso. Sì, sì, ma l'abbiamo visto qualche volta insieme. Io e Lorenzo Shapovalov e ci piaceva tanto, però. Gli altri italiani sono Sonnego, Cobolli, che sono entrambi nella parte alta, così come Fognini e Musetti, mentre nella parte bassa c'è soltanto Arnaldi. Allora, Sonnego gioca con Kezmanovic. Eh? Per, eventualmente, allora, ha perso due volte su tre con Kezmanovic. Hanno giocato su tutte le superfici, erba, terra e cemento. Eventualmente, il vincente a Norri, che qua ha vinto nel 2021. Sì. E con Kezmanovic è dura perché sono più o meno sullo stesso livello. E quindi, quindi, starà molto anche alla giornata. Cioè, come sta, come sta Sonnego. La trasferta in Medio Oriente è andata così, così. però ha giocato una bella partita con Medvedev. E... Vabbè, invece a Doha, vabbè, gli ha detto anche male, ha trovato un avversario un po' un po' rostico per lui. Quindi, insomma, è un primo turno anche questo complicato, ma non impossibile. Però, vediamo. Nel complesso ha detto abbastanza bene agli italiani, dai. Gli altri due sono Arnaldi e Cobolli, che hanno un sorteggio simile, nel senso che Cobolli ha pescato benissimo, ha preso Carvaj e Sbaena, ed eventualmente giocherà poi con Medvedev. E Arnaldi ha preso Vanasche, che secondo me parte favorito, e poi eventualmente giocherà con Alcaraz. Quindi simile per questo. Cioè, primo turno fattibile, secondo turno molto, molto duro, però benvengano partire del genere all'età che hanno Arnaldi e Cobolli in turni del genere, secondo me. Ma certo, ma scherzi. Sì, Vanasche poi, diciamo, è stuzzica questo fatto che sia seguito dal nostro amico Vincenzo Santopadre. Sì. È una, tra l'altro ha detto bene, si chiama Vanasche, non Vanasche, Vanasche, perché l'ho saputo da Fabio Colangelo che è andato a chiederlo proprio a Doha. Tu come cavolo ti chiami? E lui ha detto Luca Vanasche, io ho ascoltato l'audio nel sito dell'ATP. Se lo dici tu, mi piacerebbe più Vanasche, però è una sua scelta. No, a me no, perché sai perché? Perché Vanasche mi ricorda la società che avevano Vanna Marche e la figlia, quella che vendeva l'edera e il sale grosso. L'ultima cosa sul tabellone maschile Fede c'è un primo turno vintage. Rafa Nadal contro Milos Raonic, il vincente Beccarune. Sì, ma la prima domanda è l'hai vista l'esibizione su Netflix Nadal? no, e fieramente no. Mamma mia, quando fai il dogmatico è perché? fanno veramente cagare le esibizioni. Guarda caso sono andati al terzo set, incredibile. ma chi l'avrebbe mai detto? Comunque ho visto, scherzi a parte, ho visto qualche qualche lights. Anche Ivi, in questo momento c'è Ivi che mi sta fissando, ha sentito dire questa cosa e ha puntato... Disgustato anche lei dalle esibizioni. Può essere, adesso glielo chiediamo, però è fuori quindi non posso farla in tratta. Comunque ho visto qualche lights, cioè non so giudicare, per me cosa? Ho visto Nadal un po' legato. Poi ho anche, infatti più che altro ero interessato a capire come stesse. Lui ha detto che non si è allenato un gran che bene, poi lo sappiamo che Nadal è uno che è molto, ma molto circospetto e prudente nelle dichiarazioni, però in questa ultima fase della carriera mi sembra anche un po' meno vincolato, un po' più libero nell'esprimersi e quando ha detto io da Indian Wells spero di uscire il leso, quella è stata una frase abbastanza dura. Sì, perché è ragionevole e giusto che lui punti alla terra battuta quindi di arrivare sano al rosso. Però poi è ribadito che non sa se è l'ultima volta che gioca in Indian Wells se non sa ancora se questo è il suo ultimo anno il problema è che probabilmente neanche lui conosce la risposta alla domanda ma mi faccio male di nuovo dopo due partite come inizio dell'anno? Oppure no. È più improbabile che succeda sulla terra battuta però non può se vuole ancora fare almeno un anno a buon livello rinunciare ai mille sul cemento. Secondo me in questa fase lui eviterebbe molto volentieri soltanto che si trova di fronte a un obbligo diciamo ma poi se no non gioca mai devo mettere partite al terrore di farsi male per saltare appunto quello che dicevi tu la stagione su terra però è un male necessario questi tornei sono un male necessario Sì intanto è andato perché non è più interessato l'argomento abbiamo risolto la questione di esibizioni no a me interessava anche come prodotto televisivo il discorso di esibizioni confezionata molto bene chiaro abbiamo chiodato Jim Currier eccetera Roddick quindi vuol dire che hanno cacciato il dollaro pesante bellissimo bellissimo e non avevo dubbi sul fatto che ci sarebbero stati gli investimenti notevoli che quindi sarebbe stata confezionata come Dio comanda è molto interessante per me il discorso di questi OTT quindi Amazon Netflix che fanno esperimenti questo è il primo esperimento di Netflix sul tennis live ovviamente perché c'è la serie che però insomma la break point sì non ci prende tanto perché non ci non scopre l'acqua calda va bene perché il tennis non lo conosce ha quel significato lì quindi ok però abbiamo visto qualche anno fa Amazon cosa ha fatto Roland Garros se l'è preso per la Francia così stanno cominciando a tastare il terreno ed è interessante capire come come si sta muovendo anche quel tipo di mercato sono ancora degli esperimenti secondo me per cui bisognerà capire che che strategia ci sarà nel futuro anche da parte dei detentori dei diritti senza dubbio ciò non toglie che secondo me adesso tornando un attimo serie prima ho scherzato le esibizioni non riescono proprio a prendermi cioè quando non c'è la posta in palio boh no non riesco devo avvertire che loro hanno qualcosa da perdere se no non riesco a vederlo qualche anno fa mi divertivo ma perché c'erano degli amabili cazzoni detto con tutta l'amicizia del mondo cioè ci mettevi dentro Leconte Barami insieme a qualche professionista ancora in attività e c'era del divertimento quando le esibizioni sono diventate degli allenamenti agonistici per testare le proprie condizioni anche a me hanno levato un po' la poesia perché dicono non ci si diverte non conta nulla la partita allora ciao cioè guardatevela voi senti Raonic Raonic anzitutto vabbè di Nadal abbiamo tante incognite sulla salute Raonic pure quest'anno Australian Open ha giocato un set un pezzo fuori Rotterdam ha giocato due belle partite con Sinner ha giocato un gran primo set ritirato di nuovo cioè deve finire una partita però se sta bene non sembra non essere parito da radar se sta bene sono cavoli perché Nadal poi quei giocatori lì è vero che insomma poi alla fine il vero Nadal non aveva grossi problemi però comunque Raonic con il suo gioco Andrea Wells storicamente si è trovato bene ha fatto una finale vabbè è stato spazzato via da Gioco invece in 2016 e ha fatto altre tre semifinali quello è un torneo che Raonic ha sempre giocato molto bene perché sono condizioni ideali per il suo tennis per temperatura rimbalzo della palla se si parla di tennis all'aperto ovviamente al coperto il suo servizio diventa ancora più devastante però diciamo che nei tornei all'aperto lì Milos è davvero a casa sua 2 su 3 può essere dura può essere dura non lo so secondo me Nadal avrebbe fatto volentieri a meno di affrontare un giocatore che ti dà così poco ritmo subito sicuramente avrebbe preferito qualcuno di più leggero Nadal abbiamo visto ho visto anzi il video del piccolo il piccolo Rafa sì hai visto che con la racchettina e la pallina però ho visto la mano sbagliata ma sai adesso non so se anche la mamma sia mancina però io sono mancino mia moglie è mancina mio figlio è destro certo non è una regola chiami il maestro con la bacchetta come si faceva una volta nella scuola italiana che i mancini venivano bacchettati perché la mano sinistra veniva ritenuta quella del diavolo però a tennis è utile e a tennis è utile sì fare di sì quindi va bene andiamo al femminile perché abbiamo cinque giocatrici nel tabellone principale c'è ovviamente tanta attesa per Jasmine Paolini visto il titolo a Dubai adesso anche Paolini ovviamente non al pari di Sinner però deve un po' abituarsi alle alle luci della ribalta certo Paolini è la nostra unica testa di serie quindi è un bel primo turno e poi alla seconda affronterà debutterà a Ennio Wells con Maria o Rus sì che non è la nostra amica Maria ma è Tatiana Maria è Tatiana Maria tedesca o la arancia Rus sì vabbè è fattibile sì e poi potrebbe di nuovo trovare Kalinskaya però sì per la volta dell'anno non male le altre sono Bronzetti che ha Freck Trevisan che ha Paris credo francese quindi Diana Paris Diana Paris sì sì Coceretto contro Sterns e infine Giorgi che gravita attorno alla zona di Sbiontech che affronterà Bolter partita molto complessa perché Bolter viene dal titolo vinto a San Diego peraltro molto carino Fede il Sivarietto di De Minor che vince a Capulco e poi durante la premiazione dice ho un taxi alle 6 a Tijuana perché devo volare a San Diego per assistere alla finale della ragazza che è andava il cento all'ora per trovare la bimba mia esatto esatto e io ti chiedo invece chi vincerà Ennio Wells al femminile lo scorso anno ha vinto Ribachina c'è anche quest'anno ovviamente mi sembra se io lo sapessi lo direi a te andrei subito a scommettere no? sai che è difficile da dire nel senso che Sviontek sì ma non è proprio detto anche perché potrebbe anche lei incontrare una che le ha dato parecchio fastidio quest'anno in Australia Noscola bisogna capire un attimo anche come sta Sabalenka non lo so diciamo direi adatta a Ribachina direi io metterei Ribachina Sabalenka e Sviontek nel diciamo 33% a testa forse un po' di più visto che rimane qualcosa mettiamo qualcosa di più a Ribachina se ecco attenzione al ristorante Ribachina perché cioè gli avversari peggiori e la gastroenterite eh sì la fermata quante volte si è già presa poi non so se magari è una scusa una fandonia che racconta però sì effettivamente sì non penso perché se da forfait cioè no sì però magari da una motivazione anziché un'altra ah attenzionata alla gastro non lo so va bene senti invece nel maschile la domanda è prima o poi i sinner perderà una partita potrebbe avvenire questo diciamo che c'è c'è la possibilità che perda una partita questa direi proprio di sì però tantamente qua prima delle semifinali la vedo dura sì però potrebbe anche succedere non allarmatevi in casa sì esatto sappiate che potrebbe anche perdere perché ci sono anche gli altri potrebbe capitare una giornata storta anche a lui potrebbe anche non sentirsi bene lui poi tra l'altro all'inizio della primavera anche quello degli allergie no lui ha un po' di questi problemi di rinite allergica mi sembra quindi sì potrebbe anche perdere ricordatevelo va bene Fede direi che ci siamo ci risentiremo durante il Neon Wells sicuramente con qualche gonzo flash ok grazie mille ciao ragazzi grazie mille iscrivetevi mi raccomando perché dobbiamo arrivare a 10.000 prima di Wimbledon allora ieri al telefono ci siamo detti arriviamo a 10.000 prima di Wimbledon quindi l'abbiamo detto quindi è anche una vostra responsabilità esatto dipende da voi non vi costa nulla ok grazie ciao ciao ciao